Cos'è? Che cos'è? No, 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 oddio, 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 allora sto, sto combattendo valorosamente contro questo coso che mi sta uccidendo in realtà, quindi devo scapparmene immediatamente, uccidenti, ma dove, caspita, son finito, allora lì vedo un buco, che praticamente un mio amico mi ha detto di giocare a questo mondo, però, allora, lì ci sono altri demoni, infatti devono stare stra attenti, io ho questa katana del superpotere, che tecnicamente, per chi ha giocato, per chi ha visto, Demon Slayer, beh, sa di cosa parlo, oh mio dio, raga, stiamo attenti qua, non c'è da scherzare, questo è un tunnel dove praticamente sembra che ci addentriamo sempre più, e io, oh mio, no, non ho paura a questa cosa, fa un sacco paura, stiamo attenti, potrebbe succedere di tutto qua, vedete qua, sembra, che continui, io ho paura di svoltare a destra, ho paura di andare a destra, non so cosa ci sia, Allora, scusate se ho spento la musica, ma veramente, già mi sto cagando addosso, vediamo cosa c'è qua dentro, ok, mi sto cagando addosso, raga, oh, ho visto qualcosa, cos'è sta cosa? Ok, c'è qualcosa di strano, ma sembra che non ci sia niente, oh mio dio, che cavolo, no, 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 via, 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 no, 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 mi sta ammazzando, raga, mi sta ammazzando, mi sta ammazzando, Scappa, 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 no, 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 questo mondo è ostile, questo mondo è, via, 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 salta, via, ok, via, 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 possiamo aiutarci un attimo con la katana, che ci spinge, Cioè, io sto male, mi sto sentendo male, cioè, ho paura, io non ho il coraggio di addentrarmi lì dentro, raga, cioè, questi qua sono difficilissimi da sconfiggere, questi, per chi ha mai visto Demon Slayer, Infatti, non so perché sono qua dentro, ma per chi li ha mai visti, quell'anime, quindi Demon Slayer, sa di cosa sto parlando, sono fortissimi, oh mio dio, aspetta un attimo, qua sto vedendo una cosa, però prima, via, via, Allora, tecnicamente io qua posso scendere, e proviamo a farlo, ok, che caspita è questa cosa, che caspita è questa cosa, che diamine è, ma avete sentito, cioè, non so se si è sentito, ma, che ca... Allora, questa è una stanza composta da un materiale indefinito, del legno, e poi, ehi, 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 no, no, via, 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 salta, giù, no, 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 non voglio, non voglio più, non voglio più, basta, sono, I'm done, cioè, nel senso, ho finito questa roba, eh, anche qua dentro devo entrare, ma che palle, raga, muori, ok, perfetto, perfetto, tranquilli che con questa katana ce la caviamo, noi siamo fortissimi, Non abbiamo paura, non è, io ho paura, ho tanta paura, eh, però direi che qua sotto forse c'è, ci serve meno paura, prima di tutto uccidiamo sto coso Aia, di nuovo sto, ma ogni volta mi spacca i timpani, raga, sto suono, ma che cavolo è, peraltro, non è normale No, no, via, no, 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 allora, questo mondo è talmente tanto strano e nonsense che veramente non ha senso, ma che diavolo sono ste cose, ehi, che cos'è? Non venirmi addosso per carità Oh c'è stato di nuovo questo suono Per favore almeno tu lasciami perdere Perché Ehi 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 cosa sta succedendo Che Ok io non so che caspita sta succedendo Ma forse mi sbagliavo Forse questa Forse è questa la casa in cui si sente il suono Non lo so Via via basta scapparsene via Non importa dove e come e quando Via solo via Cosa sono ma è questo il suono Che sto sentendo raga lo sentite Io non sto capendo Cioè ci sono talmente tanti suoni Qual è il suono di green Ok vi posso mettere questi Che così almeno mi difendono un attimo Per fortuna Ok perfetto Vediamo un attimo questa casa che caspita è Ehi Raga mi sto pegando il dosso Cos'era Ma avete sentito No 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 io me ne scappo Via come caspita si esce da sta casa Raga Allora prima di tutto denuncio Il mio amico che mi ha consigliato sta roba Io lo denuncio male E ok Allora scrivetemi se volete Vedere altri video Di questo misterioso mondo Ovviamente io ve li porro Via sti cosi Scappa Salta No non sta saltando più Via Vabbè Il video finisce così Iscrivetevi per favore